Mara ha nuovi ospiti a cena, Mirta Merlino e altre persone, ma la musica non cambia, lasagna e cotolette. Com'è la pastilla di Mara, voglio sapere? Buona, profumata. E questo dolce come si chiama? La lasagna di Mara com'era? Stublime! Le cotolette di Mara? Divine! Il casatiello di Mara? Ottimo! No, quello non l'ha fatto Mara, eh? Vabbè, è uguale, è tutto un'offerto Mara, però. Viva Mara! A Mara evidentemente piacciono le lasagne e le cotolette, sono molto buone, ma evidentemente sono anche le cose che le riescono meglio.